La Sanità parla con te. Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara. Buongiorno Dottor Vella, grazie per essere con noi oggi. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti i radioscoltatori. Parleremo di chirurgia pediatrica. In quali casi, Dottor Vella, si ricorre alla chirurgia pediatrica e come opera la vostra unità operativa? La chirurgia pediatrica è una disciplina recente. C'è una scuola di specialità che è nata nella fine degli anni Ottanta. Ferrara è stata anche capostipite di questo nuovo processo formativo per la crescente richiesta di dedicare dei chirurghi all'attività chirurgica nel bambino. La chirurgia pediatrica banalmente non viene considerata come la chirurgia delle patologie degli adulti nei bambini, ma rappresenta una disciplina a sé con patologie e tecniche chirurgiche affinate nel corso degli anni per la cura delle malformazioni e carico di tutti i distretti corporei. Ci occupiamo del bambino dall'epoca neonatale fino all'adolescenza. Nelle prime fasi della vita in epoca neonatale ci occupiamo prevalentemente della patologia malformativa e poi anche delle sequele in epoca scolare e adolescenziale. Siamo anche attivi ovviamente per quello che riguarda oltre alla chirurgia in elezione per la chirurgia in urgenza come ben noto l'appendicite acuta o altre problematiche urgenti ed emergenti e queste tecniche chirurgiche che utilizziamo hanno avuto come per la chirurgia degli adulti una naturale evoluzione verso una maggiore mini invasività. Per mini invasività si intende la possibilità di operare al di fuori del distretto corporeo che per il chirurgo pediatra è il torace, l'addome e prevalentemente anche la regione retroperitoneale. Appunto per mini invasività intendiamo la possibilità di eseguire delle procedure senza eseguire grandi incisioni mediante tecniche di videochirurgia. La tecnica di videochirurgia presuppone la possibilità di utilizzare delle strumentazioni all'avanguardia e attraverso piccoli accessi chirurgici e micro cannule poter introdurre all'interno dei distretti corporei telecamera e strumenti operativi che nel corso degli anni si sono sempre più miniaturizzati e hanno raggiunto un livello tecnologico veramente eccellente. Negli ultimi mesi l'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara ci ha dato l'opportunità di poter avere un aggiornamento per cui ad oggi disponiamo di una macchina per videochirurgia o cosiddetta colonna videolaparoscopica di ultimissima generazione. Ha la possibilità di poter magnificare il campo operatorio con una risoluzione 4K come è ben conosciuta la risoluzione anche delle comuni televisioni delle nostre case. E in più è una macchina di ultima generazione che ci concede la possibilità di utilizzare anche la tecnica fluorescenza la quale è estremamente utile e tecnologica per identificazione di alcune zone distretti corporei e per la valutazione di quello che può essere la minor invasività anche sul campo operatorio. Con queste tecniche negli ultimi anni siamo in grado di poter operare tutte le malformazioni dell'apparato gastroenterico, le problematiche dei reni e delle vie urinarie, asportare tumori e fare delle biopsie utili ai fini diagnostici ed eseguire anche interventi toracoscopici, cioè all'interno del torace, mediante sempre queste piccole incisioni che eseguiamo. Tutto questo è fattibile grazie anche all'addestramento continuo che facciamo con queste tecnologie e ovviamente al grande lavoro di tutta l'equip, la quale è in grado di poter sostenere e di poter eseguire questo tipo di procedure. Stiamo parlando di videochirurgia, quindi macchine all'avanguardia assoluta da questo punto di vista. Quanto tempo serve per formare un chirurgo che possa utilizzare queste apparecchiature? La formazione è un percorso graduale che parte dalle procedure più semplici fino ad arrivare alla possibilità di eseguire le procedure più complesse. Io considero la videochirurgia come l'attività di un pilota d'aereo. Il numero di ore che si passa ad eseguire le procedure aumenta la confidenza nell'attrezzatura e nelle proprie capacità, nella propria manualità, per cui è un percorso sicuramente che necessita di un addestramento, ma anche di pochi anni per poter raggiungere un buon livello di capacità. Devo dire che all'interno della mia equipe ormai siamo tutti formati per poter eseguire tutte le principali procedure, soprattutto quelle in urgenza, e anche le principali procedure che vengono eseguite in elezione, cioè quelle programmate col paziente ricoverato. La videochirurgia pediatrica e la chirurgia pediatrica in genere comunque necessita di un team multidisciplinare per poter ottenere risultati desiderati. In primi stanza la grande collaborazione con il personale dell'anestesia e della rianimazione, sia per quanto riguarda l'attività sul bambino, sia per quanto riguarda l'attività sul neonato, per cui anche il supporto dei terapisti intensivi neonatali è estremamente importante. La formazione sia per videochirurgia che per la chirurgia cosiddetta tradizionale deve passare da una grandissima stretta contatto e collaborazione anche col personale infermieristico e il personale della strumentazione di sala operatoria. A monte poi di una procedura chirurgica vi sono anche altre specialità che vanno di pari passo allo sviluppo di quella che è la videochirurgia e la chirurgia, che sono le specialità interessate nell'inquadramento diagnostico, per cui è estremamente importante anche avere un team di radiologia di supporto per quella che è l'attività in generale e anche essere coadiuvati dalla parte internistica garantita dai pediatri dell'azienda ospedaliera. Vi ricordo che siete all'ascolto della Sanità Parla con Te, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione con le nostre aziende sanitarie locali. Oggi è con noi un chirurgo pediatra, il dottor Claudio Vella, che è il direttore della chirurgia pediatrica della nostra azienda ospedaliera di Ferrara. Dottor Vella, quali sono gli interventi che vi trovate ad effettuare più spesso? Abbiamo una buona attività che è molto rodata ed è molto attiva sulla patologia di dei sargeri, per cui interventi sui genitali, per il testicolo ritenuto, per l'ernia inguinale e per il trattamento della fimosi. È un'attività costante, quotidiana e che ci permette di far fronte a quelle che sono le necessità dell'utenza con una lista di attesa che direi è nei limiti di quelle che possono essere considerati i tempi per il trattamento. Allo stesso modo eseguiamo poi procedure, sempre in elezioni, in ricoveri ordinari, per patologie maggiori che possono essere, come dicevo, le patologie malformative a carico del sistema gastrointestinale, come il megacolona gangliare, le duplicazioni intestinali, le marrotazioni, e interventi a livello anche della sfera annessiale per l'adolescente, quindi le patologie ovariche annessiale e l'idrosalpinge, la cisti ovarica. E siamo anche attivi per quanto riguarda una ampia applicazione della videochirurgia, quindi della mini-invasività negli interventi di carattere urologico, quindi per quanto riguarda le malformazioni renali e delle vie urinarie, e malformazioni di tipo congenito, come può essere la stenosi del giunto o il doppio distretto renale. Siamo a disposizione poi anche, in carattere anche di urgenza e di emergenza, nei riguardi della patologia oncologica, dei tumori solidi, da un punto di vista sia diagnostico che terapeutico, dando una grande priorità a questo tipo di attività ogni volta che sia necessario, e abbiamo sviluppato ultimamente anche una buona confidenza nell'attività di quella che è la toracoscopia, che sicuramente nell'ambito pediatrico è la procedura di livello, diciamo, superiore e di difficile attuazione. Tutte queste procedure, quando sono procedure di chirurgia maggiore, vengono preparate minuziosamente col team multidisciplinare di cui ho parlato prima, per evitare al massimo la possibilità di avere imprevisti, e quindi, quando l'intervento è programmabile, viene sempre discusso con tutto il team, dalla sala operatoria ai colleghi dell'anestesia. Per quanto riguarda gli interventi in urgenza, noi garantiamo servizio 24 ore su 24, come potete immaginare l'intervento di urgenza in chirurgia, un pochino più noto è l'apendicite acuta, ecco, in questi casi questa è una procedura che eseguiamo da alcuni anni esclusivamente con tecnica videolaparoscopica mini-invasiva, sia nelle fasi iniziali, in cui l'intervento può portare ad un'adegenza di un paio di giorni, sia nelle condizioni un pochino più avanzate di appendicite, cioè nella peritonite, in cui il trattamento mini-invasivo garantisce sicuramente un recupero migliore. Dottor Vella, dove è operativa la chirurgia pediatrica nella nostra provincia? Il reparto di chirurgia pediatrica e l'attività ambulatoriale centrale è all'ospedale di Cona. Abbiamo un reparto con 13 letti e ambulatori funzionanti tutti i giorni della settimana. Abbiamo avuto l'opportunità di espanderci anche sul territorio, nello specifico eseguiamo un ambulatorio settimanale presso l'ospedale di Cento, l'ospedale del Delta e il presidio di Argenta. Questo ci permette di essere vicini alla comunità e di garantire una possibilità di visita vicino a casa e di poter poi anche centralizzare quelle che sono le problematiche chirurgiche più importanti nell'ospedale di Cona. La presenza sul territorio ci garantisce anche la possibilità di eseguire dei follow-up, cioè dei controlli. Quindi un paziente che è stato operato a Cona e che vive magari a parecchi chilometri di distanza dal lab provinciale può essere agevolmente seguito nel posto operatorio grazie a questi ambulatori che sono attivi nei primi di gennaio. Questa attività che abbiamo sul territorio è anche segno di questa integrazione con Ausl di Ferrara, integrazione che ci ha portato a poter espandere l'attività ambulatoriale e quindi poter favorire una migliore assistenza sul territorio. L'attività è garantita dalla presenza di sette chirurghi specialisti in chirurgia pediatrica che mi supportano nell'attività quotidiana e che insieme a me garantiscono l'attività sia a livello ospedaliero che a livello ambulatoriale e territoriale. In conclusione posso affermare che ad oggi la chirurgia pediatrica è in grado di garantire procedure chirurgiche di ultima generazione anche grazie all'arrivo del nuovo strumentario che ci consentono di essere assolutamente in linea con quelle che sono le maggiori raccomandazioni in ambito videochirurgico e chirurgico. Raccomandazioni e linee guida che sono emesse dalle principali società del campo sia italiane che internazionali. A dimostrazione di questo siamo molto attivi anche da un punto di vista scientifico con la nostra presenza all'interno dei principali congressi e dei principali tavoli di discussione. Devo dire che la chirurgia pediatrica ferrarese che ha avuto sempre una alta tradizione sta continuando su una strada di innovazione e di progettazione anche futura per rimanere sempre su quella che è la mission e l'obiettivo dell'ambito pediatrico sia chirurgico che non che è quello di mantenere un elevato standard di diagnosi e cura e di mantenere una specificità delle cure pediatriche anche al fine di garantire al bambino percorsi prestabiliti, ben consolidati ed efficaci. Su queste parole del dottor Claudio Vella, vi ricordo chirurgo pediatra nonché direttore della chirurgia pediatrica della nostra azienda ospedaliera di Ferrara. Chiudiamo il nostro programma di oggi, ringraziamo il dottor Vella per essere stato con noi e per averci informato di un'ulteriore eccellenza della nostra sanità. Grazie, un caro saluto. Avete ascoltato? La sanità parla con te. Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara.